E io sarei andata da piazzare il bambino. Eh no, mi aspetta. Piazzamento in corso! La bomba è pronta! Grande! Bella! Succa! Come la posso fare? Mi guardavano tutti a volare la pressione. Hai visto che stai sciando piano piano? Non so se l'hai vista tutta la giota, è stata bella vero? Perché l'ho spezzata. Sì, davvero l'ho vista. Ok. Qua c'è il tuo cavit? No.